Ciao a tutti, buongiorno. Insomma, le notizie di giornata di oggi sono diverse. C'è il lavoro di Messias parzialmente in gruppo a Milanello. Io non penso che vedremo Brahim Diaz con l'Empoli, perché Brahim Diaz già nel primo tempo con il Napoli verso la fine aveva un problemino, aveva una benda sotto i calzoncini. Penso che non ci sia nulla di grave, però penso che prevarrà il senso di precauzione in vista della gara con l'Empoli di venerdì sera. Che si avvicini nuovamente alla prima squadra Messias per i ricambi sulla destra è importante e penso che la squadra si stia avvicinando con la consapevolezza giusta alle prossime partite. Anche l'anno scorso abbiamo giocato con l'Empoli subito dopo Napoli. Vi ricordate? Venivamo da Napoli 1-0 gol di Giroud, vincevamo in casa 1-0 gol di Calulu con quella grande parata di Mignano sul colpo di testa di Luperto nel secondo tempo. Dobbiamo a tutti i costi ripeterci, far bene anche con l'Empoli che ieri ha battuto il Lecce. Prima lasciatemi però ricordare OneFootball. OneFootball è a vostra disposizione. OneFootball la trovate nella descrizione di questo video. C'è l'app di OneFootball, è gratuita, scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball vi aspetta, vi apre le porte di un mondo di calcio e streaming importante, scaricate l'app di OneFootball, l'app di OneFootball è a vostra disposizione. E quindi da questo punto di vista il riavvicinamento di Messias è molto importante. Poi c'è la notizia dell'apertura di una indagine della Procura federale sul gesto di Politano ai tifosi del Milan in Napoli-Milan e qui noi non centriamo nulla nel senso che non abbiamo nulla da dire, nulla da commentare, prendiamo atto, è materia degli 007 federali, della Procura federale, quindi non tocca a noi occuparci. C'è la microapertura, ho letto, per la Maura, l'area della Maura a San Siro e quindi è molto importante questo fronte, non perdiamolo di vista. La copertina è sul mercato e gli scenari di mercato. Senza avere nulla di particolare da dire, e allora qualcuno di voi dirà, e allora perché l'hai messa? L'hai messa perché di qualche orientamento è giusto che noi si discuta. Intanto Raffa Leao. A proposito, visto che anche ieri avete fatto di tutto per contraddirmi e per confutarmi, almeno iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Gratuita riscrizione. Vorrei arrivare a 52.000, prima dell'Empoli. Ce la facciamo, iscrivetevi al canale. Gratuito. Più siamo, meglio è. La tesi vostra confutazione su Leao era che Leao ha detto a Paramount Plus che preferisce giocare più esterno piuttosto che al centro. Bene. E questo cosa c'entra con il cambio di modulo? Perché alla fine, poi voi ogni tanto ve la prendete coi colleghi giornalisti, ma siete abbastanza belli duri di comprendonio anche voi a vostra volta. Raffaelle Leao era libero di mettersi a sinistra anche nel 3-4-2-1. Se nel 3-4-2-1 non ha giocato al meglio è perché era un suo periodo di forma così, era un suo periodo particolare così. Perché altrimenti dovrei dirvi come mai nel 4-2... Vi ricordate che con il 4-2-3-1, cioè il modulo che secondo voi è quello più adatto ad esprimersi per Raffa Leao, a gennaio a un certo punto Pioli l'ha tolto e col sassuolo parte in panchina dopo delle apparizioni non positive. Come mai? Vi ricordo che al di là delle dichiarazioni di Raffa, i primi due gol del Milan nascono da due percussioni centrali di Raffaelle Leao. Il gol lo fa sfondando al centro. Il campo lo apre sul secondo gol sfondando al centro e dando la palla poi a Benassero a sinistra che la mette in mezzo per Brian Diaz. Quindi, ragazzi, va bene confutare Suma che deve essere sempre la cosa più importante del mondo. Però, stando anche attenti a quello che accade sul campo. Perché, allora, come voi mi citate Leao a Paramount Place, io vi ricordo che Stefano Pioli in due conferenze stampa, con chiarezza, ha sempre detto e ripetuto che Raffa era liberissimo di andare dove voleva, sia nel 4231 che nel 3421. Quindi, ricordiamole tutte le dichiarazioni. Leao a livello di mercato. A livello di mercato non ci sono sostanziali novità. C'è un ottimismo nell'aria. C'è, secondo me, una volontà da parte del ragazzo. Chiara. Poi c'è la consapevolezza di una vicenda anomala, difficile, diversa da tutte le altre, con una multa ciclopica. Ma la volontà è chiara. Non ha bisogno di cercare la penna per firmare il contratto, Raffa. Raffa ha il sorriso. Raffa sorride. Quando gli si parla di restare al Milan e di continuare con il Milan, lui sorride. Perché è felice. E la sua felicità poi diventa calcio, diventano prestazioni per quella di Napoli. Quindi, questo ottimismo che c'è nell'aria, secondo me, ha delle fondamenta. Poi però, ripeto, siamo di fronte ad una vicenda anomala, che speriamo vada come tutti desideriamo. Brahim Diaz. Brahim Diaz ce lo dicevamo anche prima di Napoli Milan. Io avevo fatto un video su Brahim Diaz prima di Napoli Milan. Tutto ruota attorno a Brahim. Ve lo ricordate la scorsa settimana? Ero stato abbastanza profetico. O no? Che dite? Iscrivetevi al canale, così magari queste profezie le condividiamo insieme. Ve lo ripeto perché vi sto chiedendo una cosa assolutamente gratuita, altrimenti non vi permetterei. quindi Brahim Diaz vuole fortemente restare al Milan. Brahim Diaz è un giocatore giovane, ma che ha già fatto esperienze pazzesche nella sua carriera. È stato al Manchester City e al Real Madrid. E ha capito, perché è un ragazzo molto intelligente, molto intelligente, ha capito che non è semplice per il suo calcio e per se stesso inserirsi in una squadra, e che una volta che l'ha trovata e sta bene, vale la pena restarci. E questo credo che alla fine nei ragionamenti anche economici avrà un senso. Brahim Diaz è il primo a sapere che più indipendenza economica ha il Milan nel valutare anche la sua situazione con la qualificazione Champions League fra le prime quattro in campionato è meglio. e quindi ogni ottima cosa, ogni buona cosa che fa Brahim Diaz in campo esprime la sua volontà di rimanere, perché Brahim Diaz sa qual è la strada per rimanere al Milan ed è una strada che passa attraverso un piazzamento fra le prime quattro in campionato e sta dando l'anima insieme ai suoi compagni per ottenerla. Perché molti mi parlano di Brahim Diaz a destra contro la Juventus a ottobre, giusto? Ma la parità che ha fatto Napoli è di alto spessore, oltre a quella già positiva, già bella, già importante che aveva fatto con la Juventus. Giochiamo con l'Empoli, qualche giorno fa si era parlato di Baldanzi, Baldanzi è un giocatore giovane, italiano, dal cuore rosso-nero, quindi un grande abbraccione, massima simpatia, ma è un giocatore dell'Empoli e non c'è veramente altro. Il Milan crede molto nella crescita di Vrancs, nelle possibilità di sviluppo di Vrancs, che per il momento si vedono soprattutto a Milanello, ma io penso che col modulo di Napoli ci sarà più spazio, sia per Aster che per Charla, perché ci sono posizioni in campo declinabili nella maniera giusta per loro in questo momento, quindi innaffiamolo il Milan di Napoli, perché i germogli di Napoli possano essere importanti nella classifica, nelle partite, nei risultati e chissà mai anche nei risvolti estivi di mercato. Ci vediamo e sentiamo domani.